Ben trovati, questa dovrebbe essere, se non sbaglio, la decima puntata di questa serie e mi è stato chiesto ovviamente nel passato, più volte, almeno da Matteo, caro Matteo che salutiamo di andare più piano, di vedere l'organizzazione, di vedere un po' più il quotidiano che di solito taglio perché per me magari è un po' noioso, ma magari a alcuni mi interessa anche vedere la gestione generale che poi non è più di tanto, però è quello che... Allora, intanto facciamo partire. Io non voglio ritardare per questa cosa, la mia guerra contro quest'uomo qua quindi cosa farò semplicemente? Taglierò la guerra in questo caso, vedrete, il prima e il dopo quando sarò pronto cioè tra duemila truppe. E intanto vediamo più o meno cosa mi salta addosso, tipo questo mia figlia, la principessa Polonia, che cazzo è stata convertita mia figlia o è disabile, scusatemi? No. Che cazzo sentessi la maschera? Sono stata sfigurata? Probabile. Dicevo, mia figlia, sapendo i suoi interessi nella leadership, non posso farmi ripensare? Io mi sto dicendo che farmi una buona impressione, potrei probabilmente avere una conversazione con lei dall'altra parte per l'essere forse avrebbe meglio che guardi come io interessisco i miei uomini ma vediamo ma sì se vuole, poi scusatemi bello anche quello lì, cazzo andiamo a salutare un po' di nuove reclute così ho un medico che le dà una mano o lei non ha un medico che le dà una mano scar, vabbè scarred non è ferita forse dovrebbe cambiare, ma sti cazzi ma povera ragazza, un po' mi dispiace è quello che è siamo quasi arrivati, siamo quasi arrivati cosa c'è, cosa c'è amico mio? sì, facciamoci amici tutti quelli che al momento non lo sono cosa abbiamo qua? oh, fuck mio signore la tizia è contagiosa tra l'altro la lesbica il mio medico di corte Georgios mi dice che si, praticamente possiamo o lanciarla contro il mio nemico oppure gli diamo no, ma diamogli una sepoltura 10% che uno del mio coso no, no, no seppelliamola e poi ancora touring the backwaters insomma, sono oberato dal lavoro di corte e un vero autocrata dovrebbe ogni tanto andare nei vari nelle varie cittadine a farsi vedere eccetera, eccetera dall'altra parte però il duca Nicola mi sta invitando a una festa ma no, fega bisogna andare oh, contro il level change più 30 vai bam e abbiamo abbiamo fatto finire immediatamente la cosa bellissimo quell'evento lì ti aumento il controllo nelle città in effetti ha senso purtroppo non posso venire A perché quella faccia e B perché ho robe davvero più importanti da fare ma che bello questo qua è sempre l'allenamento dei bambini quindi non perdiamoci più di tanto tempo ancora qua non accetto inviti a festa è un momento allora cosa abbiamo qui abbiamo questo che vuole andare tu sei il mio vassallo ed è clino sei il mio vassallo ed è clino prossima volta impari a non ribellarti poi boh diciamo che con le truppe sono costantemente aumentando tra l'altro forse perché sto aumentando il mio controllo ok direi che è arrivato il momento di farla quindi ragazzi in questo caso specifico giusto perché così salterò sta commettendo una guerra contro qualcuno questo qua no lo stanno raidando come un maiale ok ok e niente mi preparo la battaglia magari faccio proprio due o tre spezzoni per farvi vedere come procede ma non andrò oltre in tal senso partono così le prime schermaglie verso i nostri amici che tentano di abbandonare oh more men at arms wow vediamo se i tuoi more men at arms ti salvano dai pugni in faccia no leviamocelo immediatamente dai coglioni ah devo avere editato qualcosa di un po' più grosso del previsto forse questo penso penso sia proprio questo tesoro aspetta wait ah no no questo è mio giusto c'è questo qua allora che cazzo sto ah perché è un tempio in effetti inumida tasse in effetti perché è wrong type quindi e quindi e quindi lo diamo a qualcun altro lo diamo a qualcuno di grande valore spirituale tieni d'occhio il mare amico tienilo d'occhio qui dovremmo rimasti giusto al massacro bene e così dovrebbe finire più o meno oh scappate si scappano scappano a una velocità che non avevo ancora notato però dovremmo prenderli si boh si stanno fermando e giù botte oh ha un vantaggio notevole è un miglior generale di me i miei coglioni però i nostri ausiliari stanno l'esercito nemico è stato per ora sconfitto scusami perdon dove ha deciso di infilarsi sto tizio qua ma non esiste che cazzo sei per fare una roba del genere ah mi hanno preso le forze di assedio là dietro romperla andiamo dagli una mano eh bastardi hanno tirato su un'armata considerevole sembra che allungheranno la guerra non pensavo tra l'altro devo essere sicuro che questo tizio qua venga ammazzato quindi mi sa che mi toccherà pagare qualcuno è un piccolo prezzo per vedere uno stronzo andarsene non ce n'è stato bisogno ha ticcato ed è finita non so perché abbia ticcato sinceramente però pace contro chi stiamo combattendo e poi ok guarda porca troia quanta roba 62 questo è pure peggio rispetto all'ultima volta Cristo ok 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 allora io ragazzi questa qua la gestisco mi dovete dare un attimo allora manderò l'esercito là e la chiudiamo qui qui è un bel casino nel senso che vediamo se abbiamo reunited empire non manca troppo per avere quel qualcosa lì allora io direi di dividerlo in maniera abbastanza buona in in ducati e di toglierci dal cazzo un po' di gente qua adesso mi dirà che holdings of wrong type e in più tutte le varie menate dei 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 vari ducati ci sarà una cittadina forse la capitale era qualcosa di più bello c'è qualcosa di spettacolare in questa regione la solita costruzione che mi porto a casa io senza dire niente a nessuno oh qua qua abbiamo qualcosa mi coglioni allora special building questo ti da dread game più 5% e più 15% per ogni cosa tiranno che fai il giardino del sangue è una struttura antica pre-avesariana disegnata esclusivamente per la tortura e l'esecuzione di sia umani che animali anche gli avversariani lo vedono come un posto di crudeltà e dolore niente di meno è stato visto come è stato insomma è stato utilizzato dai maghi avversariani fino al quarto secolo le stanze della raccolta di sangue furono abbandonate e lasciate in rovina fino a quando però non scoppiò la guerra civile tra Escheras e Axiotea dove questi posti sono stati riscoperti e riattivati da Escheras ed è da qui che Escheras ha raccolto il potere per castare il Frodo Bronca sacrificando centinaia di schiavi servi e anche i suoi stessi soldati per lanciare la magia che ha terminato il mondo col collasso dell'autocrazia di Eora Ispol la cittadinanza locale insieme a alcuni ribelli hanno distrutto il complesso del giardino del sangue e ora rimane più che un testamento alla crudeltà e agli spiriti che è un posto dove ci sia veramente magia di cui purtroppo non ha una skin purtroppo sarà l'unica cosa che c'è in questo posto la brincia qua diciamo che non ha non ha costruzioni specifiche speciali quindi partiamo da qui prendiamo ho già sbagliato perfetto prendiamo Ducato è un po' piccolo vabbè ma niente mi invita di creare un doppio Ducato cioè di fare un Ducato e darne via due tipo questo creiamolo sì e poi anche qua creiamo un Ducato qua ok adesso mi basta cercare ho dei nipoti vabbè i nipoti si sborrino oppure no vediamo mio nipote quanti anni hai 17 ci piace tutto quello che ti capita sotto mano tu prendi insomma ho avuto modo di educarli questi ragazzi qua quindi non so bene tu hai territori no perfetto quindi ti facciamo sposare quanti anni hai 16 ti facciamo sposare con tu nipote no wait allora lei ha un po' di magia ed è una genia quindi a noi ci serve qualcuno tipo che abbia un po' più di magia che non sia un parente tipo sarebbe l'ideale ok questo ha un po' più di magia ma non è niente di che però sono queste le cose cristo ho questo questo qua è buono non è non è oh potremmo andare così dai sembra quello lì è buono dai facciamo il cerco perché se no pureblooded 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 orco cane 5 anni però questo lo posso casare con qualcun altro questo ha tutte e due le cose ne ha 15 ed è buono non è di 15 anni non guardo neanche l'alleanza l'importante è portare a casa il sangue buono allora come vedete questa baronia qua continua continua a morire i vassallini che gli do mia figlia mia figlia mia figlia io ho ancora queste tre qua però così non c'è espansione per lei mia figlia sarà l'incaricata qua a sud di gestire la faccenda oh qui a nord dai la figlia delle montagne facciamo allora no non facciamo così tu grand title ho creato anche il ducato ah no ho creato il ducato qua sotto lo seguo tico tutto tutto questa è una bella parte qui e dovrebbe comprendere anche un ducato perfetto tieni cara e un pezzo lo abbiamo sistemato oh scusate eh no non posso neanche farlo di togliere la pausa per la guerra devo prima dare via altri titoli mi sto proprio sulle palle avere lì il tizio che troppo pazzo vabbè gli altri figli sono un po' piccoli questo è un maschio questo è un maschio tu sei sposato no ma già ha già inserito surblooded oppure tu sei già a due no gli serve qualcuno che lo porti a due o che gli dia figli che vanno a due qui a questo punto perché non andare con sempre questa gente con le maschere ci stiamo un po' bastardizzando con questi qua però ho qui vent'anni e non hai terre grand title potrei dare al regno qualcuno di loro però dov'è che si è perfetto ti becchi anche a parte qua se vuole se li mette lui i vassalli un bel pezzo di regno per i coglioni buono per ora figli mi sa che sono a posto giusto c'è il tastino per poterlo vedere tutti hanno un regno parlando di regno però sono andato qua in alto facciamo così facciamo qui eh sì non c'ho cazzo adesso di farlo per due mesi allora questo ragazzo qua mi sembra un bravo guerriero te lo sei meritato ecco ti la costa tieni buona te facciamo così adesso mi sono sti coglioni mia nipote 14 anni no questo è un mago questo qua bambino qua ha un 3 sangui deve essere una discendenza diretta mia vradful lassful te lasciamo per darti in mano qualcosa qui invece abbiamo campo per dare 1 2 3 non posso darti quello in mezzo perché ci sarà la guerra ma poi te lo prendi caro mio qui facciamo un altro piccolo vassallo tu qui facciamo un altro vassallo non ci dovrebbe essere niente mezzo alle palle no la gente qui dal gioco al domani si trova con con il mano del demenso diciamo qui non c'è niente vediamo chi c'è di bello qua anche questo altro tizio qua mi sembrava tranquillo un bravo politicante non mi ricordo come si è detto io devo tenere che roba per la costruzione la figa cazzo era qua ok impactus ok quindi qua sotto possiamo darlo a qualcun altro ancora eh piazza gente con la magia con le varie robe no non così tanto eccoci tieni bello buono qui sopra posso dar via devo solo stare attento a non dar via questo no non questo ma questa è una città non ha fa parte di questa cosa qua ma è una città non ha senso quindi non me ne frega proprio un cazzo però chiunque la possieda è cattivo come ha fame ma buono buono così mi è rimasto masson che è quello dove c'è quel posto lì e poi quello là sotto eccoci qua un paio di matrimoni buttati lì alleanza formata e si fotte sposare chi si deve sposare il tizio oh ecco vedete questo è quello che succede la gente che si infila come spy master dentro la mia corte senza essere stato invitato direttamente da me ma succederà questo anche a tutti gli altri che si pianteranno lì a rompermi le palle ovviamente adesso che abbiamo conquistato c'è un quantitativo di paesani che fa schifo al cazzo ma non mi preoccuperei più di tanto perché adesso appena finisce questa guerra grazie a dio grazie mi ha pagato pure 200 oh ragazzi stiamo tornando a casa praticamente allora possiamo rifondare un holy order sì visto che quell'altro ce lo siamo bruciati in quell'altra maniera dove è che posso metterli no no a Medigard dov'è sì non vedo perché no poi che si chiamano i grandmaster della compagnia la compagnia micanonea di rodanos ci sta e ora questo qui a chi appartiene questo ducato cioè a questo qui quindi grandland title tieni amico sì devo dar via qualcosa quello non so se mi darà tanti soldi alla fine dei conti o quello che però però potrei dar via qualcosa qui a nord che non mi interessa tipo un coro cacchetta un coro tengo questo quale sull'isola sono un po' decentralizzato in effetti ma non me ne frega niente sapete quindi vedete è colpito sino mio nipote mio nipote esatto questo qua o questo vediamo beh dai vieni nipote vieni stravicino al nonno bene abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare tutto quello che era possibile fare adesso taglio però mando fuori un po' di prigionieri che mi stanno anzi non serve sono pochi sì da male 18 cazzo me ne frega a un certo punto sono un po' barboni comunque bambina paga 100 è giusto probabilmente probabilmente dovrei iniziare a pensare a dar via un paio di regni quanti regni quanti regni ho 1 2 3 4 in verità potrei usurparne un altro adesso mi pare poi boh cosa succede notizie meravigliose quanta cazzo di gente che mi spam titoli titoli possono essere creati un quantitativo posso usurpare questo regno sì che poi in verità ha senso che te lo usurpo lui costa 500 grazie potrei darlo a mia figlia a mio figlio uno dei due che cazzo succede qua tutti sei che cazzo sei diventato no mia figlia è fuori potrei darlo a lui il tenace principe eustratios il tenace è è un brillante mago della living magic è un genio che regno è questo qua non è pavarian questo creare il re però è sempre una rottura di cazzo quindi non so ci penserò ancora intanto è finito i soldi per fare quello che ho fatto però adesso risaliranno molto velocemente 20.000 uomini anche tra l'altro miei coglioni allora qualcuno ha finito di fare quello che deve fare e noi qua abbiamo quasi radicato del tutto la religione di avolchi penso che qui sia il caso di toglierla dalla capitale oh sto per finire per avvertire la cultura anche nella capitale che è ottimo direi di sistemare così in effetti puliamo qua i lati e poi risaliamo cosa succede qua allora la signora può lasciare la prisione vai lezioni dal passato anche se vedrò tantissimi campi di battaglia prima che controllo il creatore la mia libreria è piena di libri che possono tenermi occupato per una vita intera parlando di guerra ho recentemente acquisito un tomo del grandioso siege della come si dice in italiano siege? vabbè ci siamo capiti di Gears the Port e anche una pergamena con scritto in qualche linguaggio antico chissà cosa si può dire beh io prendo provo a tradurlo 90% di possibilità riuscita wow non pensavo che ci fosse hanno inserito la lord di Godeher in quella cosa qua qua dice anche con l'aiuto di un glossario impolverato la pergamena è reluttante a dare i suoi segreti ma io continuo e la notte va avanti e la storia più incredibile si si svela davanti a me allora quando il legato Thesalion del 44esima legione ha tentato di annettere il Konjinn Manner Konjinn Konjinn Manner i porti di quel posto lì nella disputa di Balaren sembrava dovesse essere una campagna facile il Konjinn Manner che chiameremo d'ora in poi Manner cioè le guardie di Manner erano meno di 500 e le sue forze avevano solo alcuni maghi con centinaia di legionari l'unico beneficio che avevano i Manner era la loro grossissima flotta che tutti pensavano sarebbe stata inutile in una battaglia di terra ma l'ammiraglio Gurard comunque che era un marinaio esperto forse ha fatto scavare un po' il fondale comunque ha risalito il fiume con le navi per avvicinarsi a Tull e quando i Teissalian sono arrivati la flotta di Gurard ha formato il grande muro di pietra hanno fatto scavare un tunnel per far passare il fiume e sono messi in mezzo come delle mura ho detto di pietra mettevo di legno su questa cosa qua quindi hanno creato un muro di legno e tutte le armi della nave hanno fatto distruzione tra la legione che invadeva la flotta ha tenuto fermi Teissoloniani per quattro mesi fino a quando non gli è stato ordinato di commettere suicidio per l'umiliazione del fallimento e gli autocrati hanno dichiarato poco dopo il cessato del fuoco figa che 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 vita di merda studiamo la battaglia abbiamo acquisito una perk hanno fatto quelle che io definisco una figura di merda hanno fatto proprio una bella figura di merda ecca puttana nuovo re cattive abitudini incoming oh vedete questo muqua mi ringrazia per avergliato un titolo e quant'altro farà con mia sorpresa il vasallo duca Hectorius venuto da me promettendomi che farà qualsiasi cosa sia in suo potere per darmi aiuto se chiederò quindi mi dà un favore anche se non siamo vicini di sangue vorrei fare un'alleanza allora signorina a me piace che lei ha preso l'iniziativa lei sta praticamente fuori dai miei confini e quindi ha paura che io la trido probabilmente però sa cosa non ho interesse nei suoi quattro regni del cazzo e ho interesse che quello là non prenda quei quattro regni quindi accetto la sua alleanza signora poi boh detto ciò ancora arriva altra roba vuoi uscire di prigione semi-vassallo con la rivolta che sta per arrivare direi che no anche qui lasciamo la fire poi li tridiamo tutti questi conti di notte così mettiamo subito in chiaro chi è che comanda detto ciò qual è l'impero di epitezia ok mi servirà quel pezzettino qua o andare a nord io penso che mi voglio espandere a nord anche perché questo è qua ah sì sempre quel tizio la sai cosa gliel'ho già abbandonato cioè gliel'ho già usurpato oh il bambino cosa vuoi studiare tu forse è il caso che ti insegni qualcuno un po' più ma ci sono solo io che mi posso fare due coglioni così che poale va bene ti educo io ti educo io dovrei dare massono a qualcuno perché è una baronia no per ora no quindi no allora andiamo a sud scusami un secondo qua siamo ancora ancora il figlio di coso tra le palle qua la guerra cresce sempre più vicina per quest'uomo qua perché lui non può occuparmi i territori che cazzo pensa lui di donna qua da sola posso farti guerra però per per prendere che roba niente oh questo qua è diventato mio amico cristo siamo amici no 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 noi ci serve di prendere dall'altro territorio ce lo prenderemo a sud se tizio qua non vuole spostarsi da lì lo facciamo spostare noi io non ci posso fare niente se lui ha deciso di piantarsi in mezzo al cazzo a un certo punto ne comunque signori la puntata si è dilungata già a sufficienza io per ora vi saluto spero che aver visto la gestione più quotidiana piena di cagate a dover dare in giro così soddisfi anche se non credo però magari siete a bolla